Oggi 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. A Biancavilla l'amministrazione comunale ha reso omaggio al monumento dedicato al milite ignoto che si erge all'interno del cimitero cittadino. Quest'anno, in occasione del centesimo anniversario della traslazione della salma di un ignoto soldato italiano caduto durante la prima guerra mondiale e sepolto nell'altare della patria Roma, alla cerimonia oltre alle autorità civili, religiose e militari hanno partecipato alla commemorazione anche le rappresentanze delle scuole cittadine. Sono state le note del silenzio suonate da Francesco Pinzone ad accompagnare il momento di raccoglimento vissuto dai presenti. Messaggi di riflessioni sono stati poi proferiti da donna Agrippino Salerno, parroco della Chiesa Madre e dall'assessore Luigi Dasoro a nome dell'amministrazione comunale. Sicuramente il messaggio da trasmettere è il valore della libertà e della patria, nel senso ci sono stati due gravissimi conflitti mondiali che hanno portato migliaia e migliaia di vittime e a seguito proprio del primo conflitto la nazione ha deciso di istituire la figura del milite ignoto proprio per rappresentare tutti i caduti in guerra indipendentemente da dove venissero eccetera è stato un riconoscimento a queste figure che nell'anonimato alla fine sono stati veri eroi della nostra nazione. Quindi il messaggio abbiamo coinvolto le scuole oggi in questa ricorrenza del centenario della traslazione della Salma presso l'altare della patria a Roma e le abbiamo volute coinvolgere i ragazzi proprio per trasmettere questo messaggio di pace, di libertà e di impegno e la riconoscenza appunto del valore che è appunto la nostra patria che va sempre difesa e migliorata. E come detto questa mattina erano presenti anche gli alunni delle scuole sono stati in tre a leggere delle riflessioni e dei pensieri rivolti proprio al milite ignoto e a chi ha perso la vita per difendere la patria. Noi abbiamo accolto volentieri l'invito dell'amministrazione a partecipare perché riconosciamo il valore fondamentale dell'affezione appunto ai valori istituzionali per la buona educazione e la crescita civica dei nostri ragazzi e pertanto appunto abbiamo deciso di partecipare con la Quinta D ovviamente avremmo partecipato anche in un maggior numero ma le limitazioni del Covid ci hanno costretto insomma una limitata rappresentanza e anch'io ho avuto il piacere di essere qui per affiancare i nostri alunni e testimoniare appunto l'importanza che questo ha per la scuola. L'idea di coinvolgere i ragazzi delle scuole è stata di Antonio Buonanno consigliere comunale e presidente di circolo del primo circolo didattico che quest'anno ha voluto anche l'accensione della lampada perpetua posta ai piedi della lapide che si trova all'interno della scuola Guglielmo Marconi. L'ampadina spenta da tantissimi anni è riaccesa quest'anno in occasione del centenario sul suggerimento della nostra redazione. Le scuole rappresentano una società che rispetti un punto fondamentale perché attraverso la loro la formazione degli alunni si formerà una società migliore. Quest'anno è stato ripristinato nel primo circolo didattico plesso Marconi la lampadina votiva alla lapide del milite ignoto. Un simbolo che per le nuove generazioni rappresenta un qualche cosa di importante. questa iniziativa è stata suggerita da un vostro collaboratore che ringrazio e io l'ho preso al cuore e mi sono diciamo nelle sedi opportune ho fatto realizzare ciò.